Il comune, perché il sindaco oggi non è con noi, un piccolo arriverà sicuramente più tardi e noi nel frattempo facciamo il nostro buon dovere. Dov'è Vivila la vita è bella? Dov'è? Dov'è Vivila la vita è bella? Maria Lucia, dove sei? Mi fate raggiungere da Maria Lucia nel frattempo? Loredana Soria? Assunta! Tu col capellino puoi venire un attimo qui? Assunta è la nostra amica che fa divertire i bambini e anche lei nel momento in cui noi l'abbiamo chiamata è stata disponibilissima, gentilissima e è arrivata in un attimo e ho anche lei un supporto alla nostra associazione. Non me le viene a dire due paroline? Ti prego! Loredana Soria, se si può avvicinare gentilmente me la chiamate eccola lì sta arrivando perché scusami Loredana ho interrotto qualche giochino. Vieni un po' qua, vieni un po' qua. Ti dobbiamo fare un applauso anche a te perché noi siamo felici di averti avuto con noi siamo contenti che tu ci dai una mano ti do un attimo il microfono, ci fai un saluto veloce e veloce e poi ti faccio andare a giocare con i bambini. Ok, io veramente ringrazio voi perché mi avete chiamato e di poter partecipare a questa bellissima iniziativa. Grazie a voi, ciao! Un pensierino anche per te Loredana Soria